presentiamo la terza batteria in corsia 1 la Podinti alla 2 Albert Gavnil Koyanu alla 3 Diego Jedrecic in 4 Tommaso Zuin in 5 Cristian Serra alla 6 Clemento Pollic alla 7 Giovanni Furlan alla 8 Stefano Andolfatto 1 14 e 7 1 14 e 7 71, Tommaso Cleva in corsia 5 Arca Team, si aggiudica questa batteria 2, la partenza, batteria numero 3.